Un contributo in denaro per percorrere in bicicletta concesse le e-bike, ovvero le due ruote elettriche, il tragitto casa-lavoro o casa-mezzo pubblico per recarsi in ufficio, negozio o fabbrica con un percorso minimo di 5 km. A metterlo in campo il comune di Albignasego, che entro fine mese darà vita a un avviso pubblico finanziato con un fondo di 10.000 euro approvato dal Consiglio Comunale. Un bando aperto. Sia i cittadini di Albignasego, che vanno fuori dal comune a lavorare, sia i lavoratori che abitano in altri comuni che vengono a lavorare nelle aziende, nei negozi della nostra città. Il comune ricerca per ora 100 persone da inserire in questo progetto all'insegna del rispetto dell'ambiente e dell'attività fisica. Niente furbetti la speranza. Ci sarà un'app, ci sarà una verifica di questi chilometri che vengono fatti, ma più che essere un regolamento rigido vuole essere un messaggio che lanciamo, quello di utilizzare mezzi green per muoversi, quelli di limitare soprattutto l'utilizzo delle auto. Intanto si parte con i lavoratori a settembre e si spera di allargare il fondo agli studenti degli istituti superiori. Il comune di Albignasego ha anche finanziato l'acquisto di 10 bici elettriche pederate assistita a disposizione dei cittadini che avranno l'unico obbligo di riportarle al punto di partenza. Grazie.